Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come La conduttrice Simona Branchetti si prepara a fare conti con un clamoroso colpo di scena, futuro in bilico per Morning News Dopo la fortunata edizione andata in onda l'anno scorso, la rete televisiva Mediaset ha scelto di puntare ancora sulla Branchetti questa estate La nota giornalista non è stata solo confermata al timone del TG5 ma anche alla guida di una nuova edizione di Morning News, Talk d'informazione del mattino Mancano ancora pochi appuntamenti e poi anche questa edizione vedrà la fine e verrà sostituito ancora una volta da mattino 5 L'ultima puntata di questa stagione estiva potrebbe in realtà essere l'ultima per il programma in generale La Branchetti potrebbe infatti dover rinunciare al format del mattino per accettare una proposta in prima serata La nota giornalista è ormai un volto amatissimo della rete ed è anche una certezza per il pubblico di Canale 5 Negli ultimi anni si è occupata non solo di alcune difficili edizioni del telegiornale ma anche dei nuovi appuntamenti con Morning News ed ha preso il posto di Barbara D'Urso durante il periodo natalizio Tutta una serie di successi per lei soprattutto nei numeri e dati di ascolto La giornalista non ha però convinto solo il pubblico in quanto anche gli addetti ai lavori e la rete sembrano puntare molto su di lei Sembra evidente dalle parole che Platinet, al secolo Mauro Coruzzi, le ha dedicato nella sua rubrica per Di Piutf La giornalista e conduttrice romana è molto brava a dettare i tempi, i modi del programma e dallo stesso tempo a rapire l'attenzione dei telespettatori Morning News! È una bella sintesi tra informazione e divertimento e dal centro c'è sempre la Branchetti che sa tenere saldo il timone Tutte caratteristiche speciali queste che adesso potrebbero regalarle la vera e propria svolta in quanto lo stesso Coruzzi ha rivelato, si mormora potrebbe essere pronta per nuovi obiettivi Magari anche per un programma in prima serata. Per la giornalista potrebbe quindi arrivare una grandissima occasione nel corso dei prossimi mesi In passato si è ipotizzata una sostituzione Lampo sia la posto della D'Urso che della Panicucci Adesso invece nei piani della media se sembrerebbe esserci un progetto inedito fatto apposta per la Branchetti Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi o comunicazioni da parte di tutti i diretti interessati Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie a tutti